Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono come sempre Pasquale, questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Allora in questo video volevo andare un attimino a parlare di Curve, la carta che ho conosciuto grazie a Karim Mejri, del canale Karim Mejri. Ovviamente è il suo nome, non potrò dire altro. E tra l'altro io devo anche chiedere scusa perché io volevo iscrivermi col suo link affiliato, ma non so perché non me l'ha fatto fare. Bo, Karim, mi dispiace, ti devo 5 euro, anche perché appunto ci sono 5 euro per chi si iscrive con un link affiliato, diciamo di bonus. E mi dispiace, non ha funzionato, ho provato più e più volte, alla fine ho dovuto fare senza il suo link affiliato, neanche io ho preso 5 euro. Vabbè, comunque volevo un attimino analizzare Curve, dopo che l'ho utilizzata per un po', spiegare un attimino cos'è questa carta, come funziona, secondo me se conviene oppure no e ovviamente per quale motivo alla fine andrò a fare le mie conclusioni che andrò a dire alla fine di questo video. Dall'altro ci ho realizzato anche un articolo qualche giorno fa, per cui se uno volesse andare a leggerselo, può andare a leggere sul mio blog www.risparmioinvesto.com Ovviamente vi ricordo che in qualsiasi momento della vostra giornata mi potete andare a seguire su quel blog dove pubblico ognuno di t, mi potete anche andare a seguire qui sul canale youtube ogni martedì, ogni venerdì con un video nuovo e poi su instagram con io, underscore risparmio. Allora, cosa è Curve? Sono sincero, diciamo, questa carta l'ho fatta perché era gratis, non perché mi interessasse farla, anzi ero anche un po' scettico e vedevo che ne parlavano tutti, però sapendo dover spendere un centesimo per farla ho detto va un po' come diciamo le alte competitors Revolut N26, tra l'altro qui non si pagava anche la spedizione e per cui l'ho richiesta, però ero parecchio scettico prima di andare a riceverla. Allora, prima di partire per cui andare a spiegare un po' quelle che sono tutte le features di Curve, volevo anche andare a spiegare nell'arco del video quali sono le funzioni di pregio e difetti, ma anche un po' di storia di Curve. Lo guardo fuori dalla finestra un'intanto, perché c'è la finestra. Allora, cos'è che è Curve? Curve è una società fintech che è nata nel Regno Unito nel 2015 e che appunto fornisce questa smart card e anche un'app che è collegata al punto, al telefonino, che consente l'aggregazione e la gestione di tutte quelle che sono le carte connesse ai nostri vari conti bancari, ma anche tutte quelle carte ricaricabili e quelle carte, ad esempio, di moneta elettronica, come possono essere ad esempio Revolut. Per cui ha questo vantaggio appunto di fare da aggregatore e in un'unica app e in un'unica carta di poter avere tutte queste carte a disposizione. È bene specificare che Curve non è una banca, ma appunto è un servizio che si basa essenzialmente su un background di moneta elettronica. Il suo fondatore si chiama Shakar Pailak e al momento della registrazione di questo video ha circa 2 milioni di utenti che crescono in maniera esponenziale, perché quando la vedi la prima volta, alla fine dell'anno scorso se non sbaglio, erano solo 500 mila utenti. Allora, come dicevo prima, come funziona Curve? Connette e aggrega tutte le carte connesse ai nostri conti bancari, le ricaricabili e così via in un'unica app. Questo permette tantissimi vantaggi. Il primo è che in un unico posto si può avere reso conto di tutte le nostre spese, di tutte le nostre carte, per cui di per sé può funzionare anche da una specie di aggregatore di budget, nel senso che uno non ha bisogno di compilare il proprio budget per le spese fatte con la carta, perché la carta le tiene conto di tutte le carte che vengono utilizzate, spedisce anche delle ricevute che uno può anche scaricare e andare a salvare sotto forma di file in una propria cartella. Oltre a questo, Curve collabora anche con alcune aziende con le quali è andata, diciamo così, in collaborazione e permette ai utenti che utilizzano la carta Curve per determinati acquisti di ricevere dei cashback. L'app che ho utilizzato, secondo me, è di facile intuizione, nel senso che è molto semplice da utilizzare e non è fare più user friendly, per esempio io trovo quella di Revolut molto più user friendly, però non è neanche una ciofecca come quella di N26 che invece reputo molto meno user friendly. Però questa si trova, diciamo, a metà, che consente di avere un'ottima esperienza, ma allo stesso tempo consente di trovare tutto con molta facilità e non si perde i meandri di menu e sottomenu. Diciamo, una cosa, se la cercate, la trovate subito. La carta arriva molto velocemente in una, diciamo, conversione molto piacevole e soprattutto gratuitamente, non si deve pagare così come è successo con Revolut, o che la spedizione si pagava. Così come tutte le app competitor si può congelare e bloccare la carta in qualsiasi momento dalla propria app, non c'è bisogno appunto di fare dei sottofuggi particolari, l'app permette di vedere il pin, di vedere tutte le transazioni, di modificare alcuni limiti e così via. Diciamo che dall'app si ha un controllo completo della carta, come se fosse un conto bancario, anche se non lo è. Uno degli svantaggi o vantaggi è che, curva a differenza di altre carte competitor come N26 o come Revolut, non ha un codice IBAN stampato perché di per sé non è un conto bancario, non è neanche un conto di moneta elettronica. Così come dicevo prima, è semplicemente un aggregatore che in background fa lavorare le vostre carte, percanto non ci sono neanche da scegliere delle valute nel conto. La valuta sarà quella sottostante della carta che avete. Per esempio io ho ancora delle carte della KBC, il conto corrente che avevo in Irlanda, e in questa carta ho, per cui sia valuta in euro con il conto corrente e la carta irlandese, sia valuta in euro con il conto corrente e la carta italiana. Ovviamente c'è da dire che se avessi avuto un conto inglese, avessi avuto una carta in British Pound, avrei potuto utilizzare anche quella. Unica pecca è che accetta i circuiti Mastercard e Visa, non accetta per esempio Diners oppure American Express o JCB perché è presente solo in Europa, ma non accetta neanche per quello che potete vedere i circuiti Maestro e Cirrus, che sono quelli i Pago Bancomat. al momento comunque non sono disponibili, potrebbero essere disponibili in futuro, questo ancora non è dato da sapere. Data questa feature ovviamente si può considerare come una carta multi currency, perché appunto utilizza il sottostante delle carte che voi aiutate a utilizzare. Per cui funziona in realtà come se ogni volta che si fa una transazione, non si va effettivamente a prelevare i soldi dalla propria carta, per cui quello che va a succedere in background è che non si utilizza istantaneamente il denaro che è presente sulla propria carta perché si va a vedere la disponibilità, ma in realtà si usa una specie di denaro elettronico che l'app va a generare in un curve account e che va un po' a bloccare immediatamente i fondi in una transazione. Le transazioni sono classificate come transazioni e-commerce, per cui non come dei pagamenti con carta, ma proprio come delle transazioni fatte in un negozio con nome Curve come commercianti. E questo è uno dei motivi per cui voi potete usare Curve senza limiti. Diciamo i limiti sono quelli della carta, perché ovviamente voi come se pagaste in un negozio, anche quando andate a fare un prelievo, Curve è come se voi andaste a pagare tapping, mettendo sul post questa carta, senza andare a fare una vera e propria transazione di carta, ma come se fosse un pagamento vero e proprio. Per cui l'emittente della carta, quello che è il sottostante del vostro bancario, andrà a ricevere un MCC, un codice di categoria della transazione, come se fosse un pagamento in un negozio, per cui di per sé non esiste un vero e proprio accordo fra Curve e la carta sottostante, o l'istituto bancario che l'emessa, o l'istituto della carta di credito, Marcus Master che ha dovvisa che l'emessa. Poi c'è l'aspetto, non andrà a considerare, della sicurezza. È sicura sì o no? Ovviamente quando si va a utilizzare carte, conti, o quello che si voglia, anche broker, per me che faccio investimenti, la sicurezza è in primo, perché i soldi sono i nostri, ce li siamo lavati noi, a meno che non li abbiate rubati, ma questo è un discorso. Non bisogna mai andare a pensare che il nome dia la sicurezza, il blasone non dà la sicurezza, la sicurezza lo danno tutto quello che sono le iniziative volte, a far sì che quello che andiamo a utilizzare, appunto, ci dà la sicurezza. I soldi, appunto, non sono protetti da Curve, ma tutto quello che è la protezione delle banche sottostanti, per cui qualsiasi sia la protezione delle banche, sui pagamenti di tipo elettronico o tramite POS, con le vostre banche vanno a proteggere quello che è la transazione. Curve fornisce inoltre una transazione su tutti gli acquisti, per 100.000 pound, avendo sede appunto nel Regno Unito, e tutti gli utenti sono anche protetti dal diritti di chargeback del circuito Mastercard. Una volta chi forniva i servizi da Wirecard, ma tutti sappiamo come è andata a finire con Wirecard adesso, tutti i servizi vengono gestiti da Mastercard. Si può usare all'estero come se fosse una carta normale? Ovviamente, essendo una carta di background, la carta si va a appoggiare appunto come se tutto fosse un pagamento POS, o un pagamento in un negozio che sia esso e-commerce o no, e per cui può essere usata tranquillamente all'estero, e come ho accenato in precedenza, la transazione è solo virtuale, sono poi le carte reali che andranno a ricevere la transazione, come andranno a transazione e-commerce, per cui da questo punto di vista non bisogna preoccuparsi. L'unico, diciamo, limite che dobbiamo porci è quello appunto quali sono i limiti della nostra carta sottostante per eventuali pagamenti, e ovviamente dobbiamo anche andare a regolarci di quello che è il budget che siamo andati per i nostri viaggi, per le nostre vacanze, se si tratta di vacanze, o dei nostri viaggi di lavoro, se si tratta appunto di una trasferta per motivi di lavoro, e Curvy ci aiuta in questo, perché dandoci sempre un resoconto di quelle che sono le nostre spese con tutte le carte, possiamo andare a vedere il budget che stiamo andando a consumare, Se andiamo a prelevare, Curvy ci va a proporre il costo del tasso di cambio interbancario senza nessun tipo di fee da aggiungere, a meno che non si vada a fare prelevi nel fine settimana, per cui se andiamo a fare prelevi o delle transazioni nel fine settimana c'è 1,0.5% di costo di transazione se si fa la transazione in euro o dollaro, per tutte le transazioni che sono in valuta diversa c'è 1,5%, però ricordo, come appena detto, solo nei giorni festivi e nei fini settimana. Poi c'è stata anche l'integrazione con Apple Pay e con Google Pay e con Samsung Pay, per cui questo permette anche di utilizzare Curve all'interno della vostra app, se quello che volete fare appunto è utilizzare ad esempio il vostro braccialetto fitness o il wristwatch, gli orologi appunto che permettono di effettuare i pagamenti, e questi vengono supportati, per cui uno potrebbe anche non portarsi la carta, ma semplicemente utilizzare il proprio orologio o il proprio braccialetto per effettuare i pagamenti, o anche se si utilizza l'app presente sul telefonino, semplicemente andare a fare il tap col telefonino sul post. Questo è molto comodo per chi non si voglia portare le carte fisiche dietro con sé. A parte il conto blu, che è quello gratuito e quello che ho in questo momento, esistono anche altre due tipologie di conto che sono premium. La prima si chiama Curve Black, costa 9,99€ o 9,99€ al mese, e include anche alcuni vantaggi, fra i quali l'utilizzo di un programma di cashback dell'1% sui tre rivenditori che si sono scelti al momento della sottoscrizione della transazione del contratto di Curve Black. Questi tre rivenditori possono generare un cashback dell'1% in maniera illimitata nel tempo, mentre col piano gratuito il tempo è limitato. Inoltre ci sono anche altri vantaggi, come esempio il prelievo su Bancomat non in valuta euro di 400, del valore 400 euro o 400 pound su Bancomat gratuiti, e transazioni illimitate in valuta estera. Chi sottoscrive Curve Black ha anche un'assicurazione di viaggio gratuita e gadget che provengono dal mondo AXA. L'altro livello invece si chiama Curve Metal, costa 14,99€ o l'anno, o scontato 150€ se si fa un pagamento, diciamo tutto in un'unica soluzione. Qui i commercianti che si possono scegliere per il cashback sono 6, i prelievi all'estero salgono a 600€ o 600 pound, e inoltre si può accedere a le lanche aeroportuali, si possono avere i noleggi gratuiti, i noleggi con assicurazione sull'auto, per cui si fa un'assicurazione auto quando fate un'auto noleggio, e poi ci sono delle tariffe scontate su alcuni rivenditori. I titolari di questa carta possono scegliere tre colori, uno è quello acciaio blu, l'altro poi è quello oro rosa, e poi quello rosso che è in un'edizione limitata. Quali sono le feature fondamentali di Curve che secondo me vanno prese sotto considerazione? La prima, quella più importante, è che la va a caratterizzare All Card in One, per cui il fatto che in un'unica carta o in un'unica app ci siano tutte le nostre carte disponibili in qualsiasi momento, e che noi possiamo switchare in qualsiasi momento la carta di riferimento per i pagamenti in base a quello che è il nostro acquisto, in base a quello che è la nostra esigenza, per esempio se vogliamo fare un pagamento per il lavoro potremmo switchare sulla carta che utilizziamo per il nostro business, se vogliamo fare un pagamento personale facciamo lo switch sulla carta per i pagamenti personali. Un'altra feature molto importante si chiama Go Back in Time questo permette praticamente di cambiare la carta che si è utilizzata precedentemente per il pagamento effettuato e questo è una cosa molto interessante perché ovviamente come dicevo prima le transazioni sono virtuali come se fosse un negozio e il negozio può andare a cambiare la carta sulla quale fa la debito per il pagamento di quella transazione questo è interessante e può essere fatto fino a un massimo di 1000 pound o 1000 euro per un massimo di 14 giorni dopo che il pagamento è stato effettuato. Per esempio se hai fatto un pagamento con la carta di debito però poi ti sei reso conto che non hai abbastanza soldi sul conto corrente per andare avanti fino a fine mese puoi sbocciare per esempio il pagamento sulla carta di credito questo viene mosso da una carta all'altra e tu praticamente puoi fare questo movimento in totale autonomia. Un'altra cosa importante è che Curve a differenza di altre carte diciamo di credito dall'1% di cashback sui acquisti effettuati per i venditori utilizzati questi fondi poi vengono raccolti in una carta virtuale in una zona della carta virtuale di Curve che si chiama Curve Cash e che praticamente è separata dal portafoglio vero e proprio della carta Curve poi per andare a spendere questi soldi basta andare a selezionare questa tipologia di carta Curve Cash quando si va a effettuare il pagamento il cashback dell'1% per chi come me ha Curve Blu è solo disponibile per 3 mesi mentre per come ho detto prima per i due altri tipologi di sottoscrizioni è valida per un tempo illimitato se dovessi andare a sintetizzare quali sono i vantaggi e i svantaggi di Curve beh prima di tutto l'account può essere aperto online in pochissimo tempo praticamente in roba di minuti è tutto quanto diciamo molto veloce e molto semplice la carta virtuale è istantanea quella fisica arriva molto velocemente meno di una settimana mi è arrivata a me e per cui è molto bella è anche una bella set in natura mi piace tantissimo un altro vantaggio è che tutta la registrazione delle spese sono in un unico posto qualsiasi la carta che andiamo a utilizzare per cui abbiamo più conti nello stesso posto come se avessimo un budget Excel tutto qui un'altra cosa molto importante è che le spese possono essere categorizzate per cui si può andare a budgetizzare all'interno di Curve tutte quelle che sono le nostre spese e per cui usando un budget vero e proprio nel momento della registrazione diciamo delle nostre spese possiamo andare anche a capire quanto spendiamo e effettivamente se siamo dei investitori degli sparmatori accorti e accurati anche a risparmiare nelle nostre spese ci sono dei premi cashback da parte dei rivenditori questo è un altro vantaggio che mi reputo molto interessante è una carta sicura e protetta perché in realtà la transazione è solo virtuale e il sottostante sono le nostre carte quelle reali che abbiamo sottoscritto con le nostre banche e poi cosa molto importante compatibile con Samsung Pay Apple Pay e Google Pay svantaggi per i conti quelli gratuiti limite di spesa poter essere utilizzate e di prelievi sono molto bassi rispetto alle due opzioni a pagamento è un'azienda digitale per cui diciamo se chi ha diciamo quella propensione ad avere dei rapporti vis-à-vis faccia a faccia con chi eroga i servizi questa è una cosa che da tenere in considerazione non vedrete mai nessuno di faccia ci sono delle ottime recensioni sulla chat sul servizio clienti però ovviamente non andate a vedere nessuno ma un po' la digitalizzazione ci sta allontanando dal contatto fisico con tantissime tipologie di servizi per cui molto probabilmente in questo caso anche qui ci andiamo a ritrovare in questa situazione ultimo svantaggio è un servizio di pagamento è come se voi pagaste su un negozio e non è un conto bancario con tutti gli svantaggi che ne vanno a derivare però ovviamente chi va a scegliere questa carta sa benissimo a cosa va in conto dunque quali sono le mie conclusioni su core beh sono rimasto positivamente colpito sinceramente non pensavo di essere così colpito anzi adesso praticamente utilizzo solo questa devo essere sincero il vantaggio principale è che si può andare in giro con un'unica carta e col proprio telefonino per fare qualsiasi transazione si voglia senza andare a come me magari ad avere 4 o 5 carte in giro la N26 la Reul la carta di debito irlandese la carta di credito irlandese la carta di debito del conto WIDIBA la carta di debito del conto Interse San Paolo insomma diventa un po' c'è praticamente un ventaglio più una serie di carte questo è molto utile e mi aiuta tantissimo prima di andare a pagare selezioni la carta poi c'è una carta che ci fornisce dei servizi di cashback gratuitamente mentre alcuni fornitori di carte di credito invece vanno a caricare con dei fee mensili la fornitura di questi cashback e non a debita commissione per le transazioni estere per esempio come potrebbero essere altre carte di credito e questo potrebbe essere una situazione win-win diciamo per chi va ad utilizzarla unico svantaggio che mi viene in mente è che chi la utilizza magari che è un imprenditore o comunque che è un'attività e che ha tantissime carte potrebbe essere molto macchinosa ogni volta che va utilizzata perché si va a selezionare ogni volta fare una serie di carte sull'app potrebbe essere un po' noiosa io che non sono 4, 5, 6 quello che è non c'è tutta questa problematica però per chi ha molte carte potrebbe essere noioso ovviamente c'è da ricordare che se andate in giro con il telefonino scarico questa l'avete persa c'è un grosso problema per questo io oltre a questa mi porto sempre una carta di emergenza che sia quella italiana o quella irlandese non importa però per sicurezza oltre a questa me ne porto una seconda questo per avere un backup nel caso non succedesse qualcosa e tra l'altro la porto in un posto separato del portatessere in cui tengo la curva per chi volesse sottoscrivere la curva ovviamente vi lascio il link affilato qui sotto in descrizione i primi 5 euro li do a Karim perché mi dispiace tantissimo Karim se questa recensione ti è piaciuta e diciamo hai trovato interessante questo mio contenuto ti prego di farmelo capire lasciami un commento qui sotto clicca il pollice in su lascia un commento sul canale iscriviti al canale clicca la campanella se sei nuova insomma le ho dette tutte ragazzi anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video ciao iscriviti al canale